Ben trovati cari amici di Globus Television, da Antonella Guglielmino. Oggi siamo qui per la mia rubrica, la mia amata rubrica, che parla di libri. Qui con me abbiamo un'autrice emozionatissima, con la sua prima creatura, che è l'Ombra della Verità. Sto parlando del libro di Eliana Vivirito, grazie Eliana di essere qui con noi. Grazie a voi per avermi ospitato. L'Ombra della Verità è un libro, un tuo figlio, poc'anzi ti ho detto, che nasce come? Nasce dall'idea di voler parlare di un argomento parecchio controverso. È un thriller ed è ambientato nel mondo massonico, quindi siamo in un mondo un po' particolare. Diciamo che abbiamo spesso notizie quasi sempre negative di questa dimensione. E da lì è nata innanzitutto la curiosità di volermi un po' documentare e capire cosa ci fosse alle spalle. E alla fine mi sono resa conto che in effetti, come un po' in tutte le cose, sono gli uomini che deviano i principi iniziali. E che in effetti questi concetti portati avanti da uomini che credono veramente in questi principi, e sono poi dei principi basilari proprio per gli uomini. E da lì, poiché io amo comunque il genere thriller, se deve essere avvolto da misteri, da enigmi, ho costruito su questa storia rocambolesca, dal ritmo convolgente di questo investigatore. Allora, innanzitutto dovete sapere che tutto parte da un omicidio, perché quando c'è un thriller c'è un omicidio. E infatti c'è questo professore di un'università, diciamo così, che insomma viene trovato morto, ed è sempre una donna, sottolineiamo la nipote, l'ossinazione della nipote è voler risolvere l'omicidio, diciamo così, di questo zio. Esattamente, insieme al commissario. Una cosa che mi ha colpito particolarmente è la contrapposizione della figura maschile e femminile, così come i due pesci, Yin e Yang. Come mai questa contrapposizione? Ecco, una contrapposizione che poi in effetti alla fine è un'armonia, perché i due personaggi, l'uomo e la donna, alla fine comunque si completano a vicenda. Questo perché comunque, questa indagine in effetti, parte proprio perché la nipote è ostinata nel voler dimostrare che si è trattato di un omicidio. Il professore, che è lo zio, muore durante una cena in un ristorante, e poiché era gravemente ammalato sembra essere una morte naturale. È l'ostinazione della nipote nel voler dimostrare che invece si è trattato di un omicidio. Ma non ha prove in mano, quindi non può far aprire delle indagini dalle autorità competenti. Ecco perché si rivolge a questo investigatore privato. È un investigatore privato che chiaramente si ritrova proiettato in questa dimensione, trascinato da questa donna, proprio perché io ritengo che comunque le donne abbiano un po' questa funzione di riuscire a coinvolgere un uomo che magari spesso mantiene il restio a determinati argomenti. Mentre lei invece è molto più aperta e molto capace di percepire, perché anche per lei è una dimensione totalmente nuova. Non riesce infatti all'inizio a comprendere tante particolarità della vita dello zio. Pensava di conoscerlo, ma in realtà alla fine si rende conto che non ha mai conosciuto profondamente quest'uomo. Non è mai riuscito a penetrarlo nella sua profondità e caratteristiche principali. Però alla fine di questa indagine, che diventa quasi un percorso di conoscenza, si sentirà molto più vicina alla figura dello zio e al tempo stesso riuscirà comunque a far comprendere all'investigatore che nella vita comunque non tutto è bianco, non tutto è nero. C'è sempre una via di mezzo, diceva qualcuno, giusto? C'è sempre una via di mezzo. Una via di mezzo che in questo caso è rappresentata anche dal professore Lombardi, di quest'altra figura, un vecchio amico del professore che è stato ucciso. Diciamo che è un uomo profondamente giusto, è un uomo che cerca con i suoi discorsi proprio di far cadere questo guscio mentale che racchiude l'investigatore. Ti fermo un attimo. Allora tu hai parlato di conoscenza, ma tu per scrivere hai dovuto studiare tanto. Perché dovete sapere che all'interno dell'Ombra della Verità, edito da Bonanno, non c'è solo lo scritto, ma c'è una serie di enigmi da risolvere. Ci sono dei pentagrammi, ci sono delle figure geometriche particolari. Quadrati numerici. Quadrati numerici. Quanto hai dovuto studiare? Come ti sei accostata a questo studio? Allora, mi sono accostata a questo studio, allora diciamo che all'interno del romanzo ci sono questi quadrati numerici, ce ne sono parecchi che quindi seguono l'indagine. E io conoscevo il primo quadrato numerico, quello collegato al pianeta di Saturno. Poiché il mondo della matematica, per rimanere in tema, per me è un arcano mistero, non lo nascondo. Non è solo per te, però insomma non lo diciamo. Ecco, non lo diciamo a nessuno. Ecco. Proprio per questo il mondo dei numeri mi affascina. E quindi da questo quadrato numerico io ho dovuto comunque ricercare e trovare questi altri quadrati che attraverso questi calcoli matematici ti aprono un mondo. E diciamo che è un mondo prettamente matematico perché sono dei quadrati numerici divisi in delle caselle, con dei numeri in una successione. La loro somma, sia in diagonale che in verticale o in orizzontale, darà sempre lo stesso risultato. Quindi questo risultato viene detto costante magica del quadrato. Da questi quadrati comunque diciamo che poi io li ho elaborati per farli diventare dei tasselli tramite i quali i due protagonisti hanno raggiunto la conoscenza di un indizio in più per arrivare poi alla ricerca della verità. Quindi diciamo che questi quadrati trascendono il loro valore prettamente matematico per diventare dei simboli. Perché i simboli cosa sono? Sono delle porte che ci aprono un passaggio per arrivare ad una conoscenza di una realtà che è molto più profonda di quella che ci appare a prima vista. E quindi i due protagonisti per penetrare e comprendere questa nuova realtà e dimensione non potranno fermarsi all'apparenza di ciò che appare a prima vista, la morte di un professore universitario. Ma dovranno anche comprendere il perché questo uomo che era già condannato da una malattia che non lascia scampo è stato ucciso due o tre mesi prima della morte naturale. Per quindi arrivare a comprendere ciò che ci circonda in un modo più complesso e più profondo abbiamo bisogno anche di trovare un equilibrio all'interno. Torniamo al concetto di prima di armonia. Bisogna cercare di conciliare gli opposti. E questo è quello che il professore Lombardi dice spesso alla nipote e anche quindi all'investigatore che come vi dicevo mantiene un atteggiamento scettico. Lo rimprovera di guardare sempre e soltanto le azioni degli uomini e non il perché le compiono. Proprio per sottolineare questa differenza di concezione tra chi guarda la realtà così com'è senza porsi domande e chi invece cerca di comprenderne le molteplici sfaccettature. E quindi è un percorso diverso ed è un percorso che può essere fatto solo quando si riuscirà ad avere e a raggiungere un equilibrio interiore. Come? Cercando di trovare quindi un equilibrio tra le nostre pulsioni, le due più importanti, bene e male. L'investigatore è abituato... Non a caso ti ho fatto la domanda dei due pesci. Perché l'investigatore è abituato a catalogare i fatti illeciti e leciti, quindi buoni o cattivi. Questa è la distinzione. In realtà il professore Lombardi cerca di fargli comprendere che in effetti si possono equilibrare non sono degli opposti contrapposti, ma complementari l'uno nell'altro. Proviamo a immaginare la nostra esistenza come una scacchiera. I quadrati bianchi rappresentano il bene e i quadrati neri rappresentano il male. Mentre l'investigatore, come un po' tutti, camminiamo o sul quadrato nero o sul quadrato bianco, il professore Lombardi suggerisce di camminare per la via più stretta, quella via che passa tra un quadrato e l'altro. Sulla fuga. Sulla fuga. In modo tale da avere da una parte il quadrato bianco e da una parte il quadrato nero, per avere coscienza di entrambi. Solo quando li avremo equilibrati riusciremo a comprendere noi stessi e anche un po' di più quello che ci circonda. Dato la spiegazione che ci ha dato Liana Vivirito, avete capito che è un vulcano. Inizialmente era insomma un po' titubando, non lo è più. Allora, quando è scritto, sono 284 pagine se non ricordo male. Perfetto. Quando l'hai scritto in un primo momento, sono sicura, matematicamente certa, a proposito di quadrati numerici, quante pagine avevi scritto? Quasi 500. 100%. Ecco, benissimo. E poi come hai fatto a ridurre? Perché chiaramente... Allora, io devo dire che il lavoro peggiore è stato proprio il lavoro di riduzione. Perché come dicevi tu all'inizio, è un figlio, era nato in un certo modo. E quindi, diciamo che io, non riuscendo mai ad esprimere un concetto in quattro parole, ma in magari 20 pagine, e quindi sì, avevo raggiunto quasi le 500. Devo dire che è stato un lavoro che mi ha impegnato per quasi sette mesi, perché chiaramente il romanzo è un thriller. Quindi, come tale, ha bisogno di un ritmo che tenga il lettore ancorato al libro. Ancorato al libro. Quindi, il rischio che si correva era magari di tagliare delle parti che poi ne avrebbero compromesso lo svolgimento. E tutta la restante parte. Certo, tutta la parte. E quindi, devo dire che non l'ho ridotto solo la prima volta. Sono andato riducendolo per ben tre volte, pian piano, pian piano, fino a trovare poi la stesura finale. Rileggendo, diciamo che il ritmo era stato perfettamente salvato. E devo dire che, in effetti, chi lo ha letto mi ha detto proprio questo. È un ritmo che ti prende sin dall'inizio e non ti molla. Cioè, devo dire che ho costretto qualcuno anche a leggerlo. Ti stavo facendo proprio questa domanda. Sì. Appena hai finito il tuo figlio. Ecco. A chi l'hai sottoposto? Per primo è voluto in maniera rigida, insomma, l'opinione. Allora, il primo in assoluto che l'ha letto è stato mio marito, il compagno di una vita. Quindi, devo dire che lui è l'unico che comunque ha letto le 500 pagine. Quindi lui, sì. Ed è stato, anche perché lui è comunque un lettore del genere. Quindi, magari, oltre ad essere un appassionato, avrebbe potuto anche darmi un giudizio spassionato. E devo dire che ne è stato particolarmente colpito. E quindi, da lì ho cominciato a cercare qualcuno che avesse voglia di pubblicarlo. Perché, ovviamente, aveva voglia che venisse agli altri. Devo dire che comunque ha anche dato all'editore la correttrice di bozze, che io ringrazio per la pazienza. Anche lei lo ha letto nella stesura originale. Ed è stata lei che anche mi ha consigliato di ridurre qualche parte per evitare, magari, un tomo un po' troppo pesante. Anche perché, siccome è così bello, guardate, è bellissimo sia la copertina sia la carta, l'odore che fa è meraviglioso. Il fascino dei libri. È il fascino dei libri. Chi parte e chi ama leggere, è chiaro, una cosa mettere in borsa o in valigia, un libro di 284 pagine, una cosa di 500, non te lo porti a casa. A meno che c'hai l'ebook, è una cosa diversa. Però sfogliare un libro è qualcosa di diverso. È magico anche il libro. Il fascino delle pagine non ha paragoni, dico io. No, decisamente no. È meraviglioso. E adesso andiamo in pubblicità, ci rivediamo subito dopo aver visto il book trailer ed Eliana ci spiegherà chi l'ha realizzato. A dopo. Ciao. 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 Farmacia San Mauro Cortesia e professionalità Cosmetica Fitoterapia E prodotti farmaceutici Farmacia San Mauro Piazza Gelsi Via Grande Catania Art in frame suriale Da oltre 30 anni Cornici su misura Oli e grafica d'autore Stampa su carta e tela E ancora complementi d'arredo e liste nozze Il nuovo showroom situato al numero 1 di Via Martino Cilestria a Catania Presenta un'esposizione delle migliori cornici pensate e create per accontentare anche la clientela più esigente E inoltre rendiamo disponibile il nostro showroom per vernissage, esposizioni, mostre ed eventi Art in frame suriale a Catania in Via Martino Cilestri 1 Telefono 095 092 4369 Tecna Saloon e Shop Professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze Uomini e donne troveranno i principali servizi di haircare, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza Ci potete trovare presso il centro commerciale Etnapolis, Valcorrente e a Belfasso in Via Giovanni Falcone 41 Per info o prenotazioni telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 91 76 77 Stanchi dai soliti problemi condominali? Affidati ad uno studio di amministrazione condominiale professionale Lo studio SAC di Continuo Filippo & Partners offre professionalità, competenza, organizzazione e trasparenza nella gestione condominiale SAC per amministrazioni di condomini di immobili, immobili privati, società ed enti SAC di Continuo Filippo & Partners lo trovi a Largo Rosolino Pilo 39 D Catania Per contatti telefona allo 095 44 94 60 O puoi inviare una mail a info chiocciola sac di continuo punto it Il tuo condominio in mani sicure Nuovamente in studio con la mia rubrica dalla parte del libro in studio c'è Liana Vivirito con il suo libro L'ombra della verità edito da Bonanno Stavamo parlando, abbiamo appena visto il trailer di questo bellissimo, intrigante thriller Chi l'ha realizzato? Il book trailer? Mia figlia Tua figlia? Una ragazzina di 17 anni Alla faccia devo dire Molto brava Lei è particolarmente predisposta per questo tipo di attività E quindi quando gliel'ho chiesto è stata bravissima nel realizzarlo E devo dire che il thriller rende bene perfettamente l'atmosfera che c'è poi nel romanzo Chi legge viene immerso in questo tipo Devo dire che quello che ho visto e appunto ho sentito il ritmo incalzante della musica Queste figure che magari traggono momenti del passato anche per quanto riguarda la grafica C'è la macchina, l'asfalto invece che richiama il moderno Sì perché è ambientato in tempi moderni Anche se i due protagonisti svolgono le loro indagini anche in edifici secolari Fatti costruire da grandi uomini del passato come Federico II, Sigismondo Malatesta Io adoro Federico II, letteralmente Capisco benissimo Capisci benissimo Quindi c'è questo tuffo nel passato Quindi questa unione tra il mondo moderno e il mondo antico Che non è morto e sepolto Ma che ancora oggi attraverso queste opere ci comunica ancora qualcosa Un messaggio che è rimasto inalterato nel corso dei secoli Una cosa che mi ha colpito in questo romanzo è che tu non lo ambienti in Sicilia Ma a Roma, perché questa scelta? Allora, innanzitutto è stato voluto perché l'indagine dei due protagonisti Porterà alla luce un intrigo che è orchestrato da uomini potenti Che sfruttano la loro posizione in politica, nella loro società Per fini personali E quindi uomini che sono legati a delle organizzazioni criminali E quindi non ho voluto contestualizzare questo concetto di criminalità Perché? Con la nostra terra Perché purtroppo spesso di noi si ha queste immagini stereotipate Ma noi siciliani non siamo questo Ecco bene Roma sin dagli antichi romani è stata definita Caput Mundi Centro del mondo E questo mi ha permesso di dare un valore Più generale, universale A quello che io volevo raccontare Perché Roma per me diventa il simbolo Di una società fatta di uomini Che in qualunque tempo, in qualunque parte del mondo Purtroppo operano in modo illecito e criminale Ecco perché c'è stata questa scelta e questo spostamento di luogo Ma volevo aggiungere che comunque la loro indagine Non si fermerà in effetti soltanto in questa città Perché lo zio temendo proprio di essere ucciso E che questi indizi venissero scoperti Li ha sparpagliati anche per altre città E in questi luoghi immersi nel fascino misterioso Infatti nel book trailer abbiamo visto il Duomo di Rimini Il Duomo di Rimini, Castel del Monte Questi luoghi particolari avvolti infatti in questo alone di mistero Quindi diciamo che si vedranno questi monumenti Non solo come da un punto di vista artistico Ma sotto una luce diversa, una luce misterica Proprio perché il singolo elemento figurativo, architettonico Diventa un simbolo, quello che vi dicevo poc'anzi Una porta che apre un passaggio Per poi conoscere questo messaggio nascosto Ma anche un simbolo numerico Troviamo anche il famoso numero d'oro Il 1,618 Che non è un semplice numero È un numero con cui due protagonisti dovranno confrontarsi Proprio per far proseguire la loro ricerca Quindi torniamo anche al discorso dei quadrati numerici Il numero non visto dal punto di vista semplicemente matematico Ma da un punto di vista simbolico Perché se un po' pensiamo a Pitagora Secondo Pitagora L'essenza di ogni cosa sta nei numeri L'universo è percepibile attraverso i numeri E in questo caso attraverso i numeri I due protagonisti percepiranno una dimensione nuova E arriveranno alla scoperta di una verità Che è molto diversa da quella che appariva a prima vista Ma renditi conto che storia Un thriller che dobbiamo leggere necessariamente Dove si deve comprare questo libro? Dove si deve acquistare? Ecco, in questo momento online Su Amazon IBS IBS Il libro si può trovare Ma comunque anche se non è immediatamente disponibile È perfettamente ordinabile Non ci sono assolutamente problemi di reperibilità Quindi si può tranquillamente Prenotare Prenotare Sì, sì Se non si trova in libreria Io so per certo che Cavallotto qui a Catania Fisicamente il libro C'è Però in qualunque altra libreria È facilmente prenotabile Se ancora non è arrivato Questo non so perché io poi magari Ho perso il Insomma, chi lo volesse acquistare Basta collegarsi online Nella piattaforma IBS O Apple e così via Oppure andare in una propria libreria di fiducia Magari e prenotarlo là Non c'è assolutamente problema Senti, una volta che tu hai completato la tua opera L'hai fatta leggere a tuo marito A un certo punto la dovevi dare Quando si scrive un'opera Si scrive una parte di se stessi No? Sì E allora là che cosa ti è scattato? Cioè da una parte la volevi dare alla pubblicazione In maniera tale da avere un feedback Però dall'altra parte? Dall'altra parte Come dicevi tu e un figlio È stato difficilissimo lasciarlo andare Ho vissuto per un po' Questi sentimenti contrapposti Da una parte la voglia di farlo leggere Di quindi confrontarmi Con chi avrebbe penetrato questo mondo Dall'altra invece vera e propria paura Sì, la paura che non potesse essere capito Non che non piacesse Che non potesse essere proprio compreso Da chi lo aveva tra le mani È un po' come quando si ha un figlio E si cerca di proteggerlo a 360 gradi Ecco ma no Ed è quello che mi è successo Poi in effetti Come tutti i figli bisogna lasciarli andare E quindi l'ho lasciato andare E devo dire che comunque È stato compreso So che chi già lo ha letto È rimasto affascinato Dalla storia Quindi dal thriller È stato catturato Da questo ritmo Incalzante Coinvolgente Anche perché Volevo aggiungere questo Questo ritmo per me è un po' Voluto come Una trasposizione temporale Della loro voglia di sapere Sempre più e sempre più velocemente Ed è questo che poi il lettore Viene quindi poi trainato Da questa voglia Dell'investigatore della nipote Di sapere sempre più velocemente E quindi Devo dire che Quindi con questo ritmo Il lettore è stato coinvolto Chi lo ha letto Me lo ha confermato Ma la miglior soddisfazione È stata quella di chi Poi mi ha detto che È arrivato alla fine È tornato indietro Per rileggere alcune parti Perché in effetti Io non volevo come Dicevo prima Fosse un thriller Fine a se stesso Ma un thriller Che tra le righe Raccontasse anche Un'altra storia E spero E credo Di esserci riuscita Questa è la più bella soddisfazione Essere riuscita Nel proprio intento E soprattutto Trasferire il proprio pensiero Agli altri Penso che sia la cosa più bella Senti Sicuramente ci sarà Un seguito Di questo libro Sì Ci sarà un seguito Perché come Spiega il titolo L'ombra della verità Diciamo che I due protagonisti Alla fine della loro ricerca Arriveranno A capire Questa verità Ma è una verità Che non appare Loro nella sua Totalità o completezza Cosa che Diciamo Nella realtà Non succede mai C'è sempre Un'ombra Che ne offusca La limpidezza E quindi Scopriranno Una verità Ma Percepiranno Che c'è qualcosa Di Di viscido Di scivoloso Che va Che non si riesce ad afferrare Ma che c'è dietro Che si nasconde E l'investigatore Deciderà In effetti Di continuare Questa ricerca Perché io penso Che un po' La figura Dell'investigatore Sia la metafora Di ognuno di noi Perché tutti noi Cerchiamo di dare Una risposta A tutto ciò Che c'è Di insondabile Di inesplicabile Nella nostra esistenza Meraviglioso Con questa affermazione Ahimè Il nostro tempo A disposizione È concluso Vi raccomando Comprate L'ombra Della verità Di Eliana Vivirito Edito da Bonanno Sarà un È un thriller Veramente Intrigante E poi magari Ci scrivete E ci dite Cosa ne avete pensato Noi ci vediamo Alla prossima rubrica Grazie